sono qua coglione sono qua dai cos'era no 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 che cazzo fai ecco no no si pia male si pia male bellissimo io non posso veramente credere che io non sia stato neanche in grado di montare una cazzo di webcam siamo partiti da dio eh raga siamo partiti da dio seleziona te stessi sono io sono io ciao d'accordo ragazzi siamo su playroom è questo che dovevo fare dall'inizio porca Eva come cazzo si gioca fammi capire piazza la playstation camera 50 centimetri da terra si si ho già controllato col pene non ti preoccupare lo schermo deve apparire così riesci a vedere la faccia del pavimento ciao che cazzo vuoi di più che devo fare oddio oh no vabbè ariga che belle calze che c'ho strofina il touchpad ma che cazzo cos'è oh madonna che gol oh anzi che è no ma che cazzo oh astro si vabbè ascolta vabbè che son magro ma si cazzi ma si cazzi senti no 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 non ti spaventa dove vai no vabbè ragazzi è una figa cosa devo fare dovrei trisciare robottini cos'è rilassati accompagnando i tuoi piccoli amici nulla passeggiata sul tuo pavimento va bene mi stai cagando nel joystick ah già ah si quella è la mia sedia è la sedia mia quella lì ma perché ma vaffanculo come funziona io adesso tiro su che cazzo voleva un attimo minchia come funziona fermi fermi date per 5 no no date per 5 il 5 a coglioni io non c'ho bisogno dei minions cattivissimo favi c'ha questi ma che sta da fa mi pupate la fava a stranzo non ho capito allora fermi un attimo ma vaffanculo va ma vaffanculo che faccio ah che figo no vabbè sto dentro solo sta cosa vale tutto il gioco maledizia poi torno indietro e li butto fuori si ho capito non è difficile I can feel my face where I'm with you you motherfucking baby no che è successo sto sparando dal mio pene dei bambini ah ah è così che nascono i bambini ragazzi ragazzi è la cosa più divertente che io abbia mai fatto in tutta la mia vita non so perché non l'ho scoperto prima ragazzi siete dei fighi volete vedere una cosa ragazzi tutti su coglioni che poi ragazzi sono proprio qua dentro sentite che roba a caso vabbè senti uno uno lo faccio uscire ma vaffanculo ma vabbè ragazzi non se c'è qualcos'altro di roba strana tipo gioca con a zombie ah il robot quello che gira si chiama a zombie fai volare il tuo amico metallico a zombie per la stanza questa attività ti permette di toccarlo allora io non faccio molestie sugli a zombie ricorda niente pugni no 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 più che altro non voglio toccarlo che si ecci da sto stronzo a zombie guarda che non ti to... non pensare male sembra che sto facendo cose bruttissime però vabbè a posto ciao a zombie come stai? ma come cazzo fa a passarmi dietro? ah coglione minchia quanto hai mangiato una panza così no basta con sta storia degli scanner che palle hai finito di fare il cazzone eh? ah vieni qua vieni si si sediti eh devo capire sediti è casa mia se ti dico di sederti sediti no no scusa zio facciamo che non è successo niente posso provare una cosa? stai fermo stai fermo fermo non mi guardare il pene stai fermo no non il mio piede questo è il piede ti piace? allora fai una roba stai fermo fermo cazzo l'ho mancato porca Eva l'ho mancato ascolta aspetta 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 ah no dove cazzo vai no no calmo 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 no no calmo amico mio posso liberarti una cosa? questo sembra proprio l'inizio di un porno ma il problema non sono le tipe che non ti vogliono è che eh lo sai e vedi vedi è l'atteggiamento che che c'hai che non ha senso perché non puoi importunare le persone così cioè uno sta un cristiano sta in casa sul divano cazzo voli cioè siediti anche tu cioè non hai le buone manie le basi le basi non guardarmi le culi no basta basta vabbè dai dammi la mano stringi stringimi la mano eh madonna che ti no 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 sto scherzando sto scherzando no che si pia male poraccio oh cos'è che cazzo fa cos'è cosa fa no ma no ma mi spiace no non volevo ragazzi giuro che non volevo porca Eva cos'è ah bella eh no a parte che stai volando quindi fammi capire se che sa cazzo è ah cos'è ma perché no no stuprate no no che sto insistendo un stupro calmi cortesemente ragazzi va bene ragazzi concludo quell'episodio è stato alquanto strano perché c'è giocare questi cosi è la cosa più strana al mondo ve lo dico non vedevo l'ora di provarlo comunque è veramente figo solo che mi fanno non lo so mi fanno un po' senso sinceramente però ragazzi è stato bello finché è durato levatevi dal cazzo per cortesia eh almeno quella almeno la fine quindi ragazzi concludo dov'è a zombie voglio a zombie voglio a zombie prima di concludere a zombie concludi tu per cortesia che non c'ho più voglia di fare sta cosa grazie è stato bello si 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 no no tranquillo eeeh dovrei chiudere l'episodio mi dai la mano no quindi ragazzi speriamo che il video vi sia piaciuto speriamo io e lui speriamo entrambi che il video vi sia piaciuto e niente ragazzi e bravo bravo ha fatto un passo avanti e sono già progressi vabbè e a parte tutto ragazzi spero che il video vi sia piaciuto come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche la pagina di facebook come ogni video trovate nella descrizione no no nella descrizione cioè ho fatto così perché vabbè se lo so se lo so ci vediamo in un prossimo video di bella ragazzi sì più o meno sono qua goglioni sono qua dai eeeh cos'era no 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 che cazzo fai ecco no no si pia male si pia male bellissimo ciao se volete se ti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video dai ragazzi non ho pelata come te guarda siamo uguali siamo uguali in fondo e forse capirai anche tu senpai che sono gnocca anch'io no 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 all Grazie a tutti.